eccoci qua con due protagonisti della partita degli allievi con l'atletico il nostro luca frasso come al solito davanti alla tv segna vero lu ma tu segni solo se c'è la telecamera perché dobbiamo firmare tutte le settimane bisogna firmare la sera almeno non riesco a segnare il nostro pasquale che è stato sopra eliminato cordoba mi hanno anche chiesto se sei veloce come cordoba no sono più lente di lui sei più lento beh insomma anche oggi ci siamo fatti ricoprire due gol ma non cusci a vincere con l'atletico eh sono fortunati però diciamo che ci credono di più fino alla fine riescono sempre a riparare anche oggi ti ha messo a centrale in mancanza di purtroppo sì perché purtroppo e noi ci ricordiamo l'oristano avevi fatto una partita nella centrale ed è stato anche ammonito per un fallo su un attaccante alto 2 metri e 10 l'anno scorso sì con l'oristano io lo ricordo perché è uscito anche il sangue quando ti ha ammonito è talmente stanco che non riesci manco a parlare perché voi stanco di che cosa se non avete fatto niente no ieri c'era la festa ah ecco infatti tu e Marco eravate mimetizzati con la maglia bianco schiennive no siamo riusciti a mezzanotte solo? di quando? più quante ore bonus no mezzanotte vabbè Luca è tornato prima a vostri spero no vabbè ieri sì Luca all'una una partita importante è sempre più anche io non sapete come era nervoso il capitano Silvoso in tribuna che non poteva giocare si vedeva da tre partiti e poi io giusto per il inferiore gli ho detto ma eh di non prendersela che ne deve saltare altre quattro e lui se ne è andato da allora non si può avvicinare beh uno scontro diretto si riuscirà a vincere o pensate di è importante vincere il campionato ma se non si vincere lo scontro diretto che l'ha vinto? Bologna ha vinto è l'unica che ha vinto San Paolo a Pureforte hanno pareggiato San Paolo ha pareggiato? sì e però anche voi avete pareggiato Pureforte ha vinto sì no ha pareggiato anche la Pureforte eh Auristano vabbè ma informatevi sui risultati non è che non ci interessa non ci interessa non ci interessa vincere anche una partita ogni tanto Bologna è prima però non ha potuto in più quanti gol hai fatto lui? ma la San Paolo c'ha quanti gol hai fatto che è più importante? quest'anno due due io ho tre il tuo avversario ne ha fatto tre no ok ma ne ho visto già l'ho visto due del calcio l'angolo eh purtroppo è stata una bella partita ci siamo diventati sì tanti gol pioggia di gol contenti anche Attore era contento per il gol è fatta fare oh Natale è finito però basta regali basta regali Natale è finito salutate ciao 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 Babbi Natale ciao teletaccia